La squadra ha fatto quello in cui avevamo preparato la partita, abbiamo cercato di avere sempre la palla perché ho detto ai ragazzi che le partite durano 95 minuti e non aver la frenesia di sbloccarla i primi minuti. Siamo stati bravi, abbiamo fatto una gran partita, posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi perché fino al 95esimo abbiamo giocato la partita, non ci siamo fatti giocare dalla partita perché è un gioco di parole però rende l'idea che la squadra ha tenuto il campo bene per 95 minuti e se devo dire se c'era una squadra non perché allena il Piceno che meritava di passare, era il Piceno per il calcio. E' quello là almeno dal mio punto di vista, però complimenti al Monopoli che va avanti e quindi noi siamo arrivati a fare questi playoff, l'obiettivo era la salvezza però abbiamo dimostrato di saperci stare nei playoff. C'è stato un minuto, un minuto e mezzo, subito per aver fatto gol, ci sono un po' di situazioni che non è facile nemmeno per la Terna, su qualche fuorigioco o quant'altro, ma ci sta, vanno aiutati, la Terna va aiutata. Se devo proprio recriminare, al di là di quello che poi abbiamo subito gol, subito, è il primo tempo, di solito non lo faccio mai per aver finito il campionato, sul rigore su Gerardi, vedendo anche le immagini. Qualche partita l'ho fatta e so che quei rigori si danno, però poi il verdetto nel campo dice 1-1 e come ho detto prima faccio i complimenti al Monopoli, però un applauso grande ai ragazzi del Piceno che hanno veramente oggi dimostrato di essere dei giocatori importanti. La creatura nostra, la creatura del direttore greco, perché non voglio di nuovo ridire, fare la squadra in 15 giorni non è stato facile, quindi creare un gruppo sì, creare un gruppo sì, da parte mia sì, perché tutti i ragazzi dal primo all'ultimo coinvolti, anche chi non ha giocato, ma non solo oggi, sempre, quindi questa è una cosa bella. Quel senso di appartenenza che noi vogliamo a partire dal presidente si è vista e quindi quando esci dal campo hai dato tutto, hai onorato la maglia, è come aver vinto anche se poi non sei passato al secondo turno. Io intanto ringrazio il direttore greco perché mi ha dato la possibilità di allenare il Picerno, perché non è mai facile per un direttore affidare le chiavi del proprio destino all'allenatore, quindi l'allenatore che va ad allenare una squadra ha una responsabilità importante, quindi bisogna essere riconoscenti del direttore che ti chiama, perché è importante. Se date scontato che se va a allenare bastano, riconoscenza. Io mi sono trovato bene a Picerno, un gruppo fantastico, la comunità fantastica, veramente si può lavorare alla grande, non ci sono pressioni, anche se a me piacciono le pressioni, però le pressioni poi me le creo io, andando sempre forte durante la settimana e creando, alzando la temperatura. Perché no? Io devo tanto al direttore greco e quindi perché no? Bisogna fare delle valutazioni, ma adesso mi sento solo di ringraziare questi ragazzi perché veramente hanno buttato il cuore oltre lo Stato oggi.